questa pillola video pillola di oggi è in modalità nerd a parte che con questo freddo si sta più comodi con la felpina il cappuccio però fondamentalmente vorrei affrontare velocemente il tema dello sviluppo dei siti internet o della realizzazione dei siti commerce negli ultimi 10 giorni abbiamo lanciato un esperimento per cercare di capire che ce ne fosse bisogno l'esperimento era un altro fatemi finire di parlare cercare di capire quanto fossero appetibili ancora oggi i siti web e ne è venuto fuori che fondamentalmente è un comparto nazionale da 28.000 25 30.000 28.000 query giorno query giorno quali giorno vuol dire 28.000 ricerche giorno quindi potrebbe essere anche lo stesso utente che il giorno x fa n ricerche e che poi lo stesso utente nei giorni successivi effetto alla stessa ricerca il numero di preventivi ricevuti è enorme inquantificabile pur essendoci un funnel particolarmente frastagliato che rischia in alcuni momenti in alcune qualità se non si sta attenti soprattutto se si interviene con campagne google ads non farei campagne facebook ads veramente disastrosa la profilatura in quel caso trovate i concorrenti altri player come me che poi fondamentalmente va ammazzano il servizio lavorando come detrattori del servizio stesso comunque il costo per conversione in alcune qualità rischia di in alcuni momenti rischia di essere troppo alto il problema è la tipologia di cliente che cerca perché c'è di tutti i tipi massimo rispetto a chiunque sia quello che si approccia per la prima volta un sito web sia quello che ha un sito web da cambiare sia quello che ha l'e commerce navigato che è quello che vuole lanciare una nuova idea il discorso è che bisogna particolarmente armarsi di pazienza in quella che è la fase educativa perché il problema è che se ne trova della qualunque si trova da prezzi bassissimi a prezzi altissimi noi oggi che siamo usciti con un pacchetto che ha un costo di ingresso particolarmente basso perché fondamentalmente per il prezzo ingresso che siamo immaginati noi c'è un sito internet che una volta serializzato effettivamente porta comunque non ti far non ti ci far rimettere poi ti consente di lavorare su lifetime value e per esempio andando a proporre attraverso una parolaccia che è il retain andando a proporre altri tipi di campagne che possono essere le facebook le google la seo compagnia danzate però il discorso è che il c'è veramente molta confusione e credo che questa molta confusione sia legata non tanto all'insicurezza del cliente quanto alla malandrineria di chi propone servizi come al solito si cerca di essere i più in gamba andando a millantaro a presentare servizi offerte che fondamentalmente poteva andare bene negli anni 90 non oggi allora quello che probabilmente dico è che prima di scoraggiare uno che vuol fare un sito internet andandogli a raccontare la rava la fava credo che sia giusto operare in un evidente chiarezza con un evidente chiarezza comunicativa quelli che sono i servizi applicabili a un sito web in maniera tale che poi fondamentalmente ne beneficiano tutti perché passare a volte 40 50 minuti al telefono a spiegare fondamentalmente che non si naviga più con un modem user robotics 28 8 dovrebbe essere insomma la base di tutto quindi mi raccomando credo che il consiglio del giorno la pillola alla fine questo video è durato ma 4 minuti e 50 la pillola fine era mi raccomando quando fate le offerte per i preventivi fatele oneste fatele oneste in maniera tale che poi quando vengono da me a comprare sito internet e non devo spiegare per 40 minuti cosa non vuol dire quello che mettete nei preventivi e poi fondamentalmente vuol dire che li buttate giù nel funnel li accompagnate li educate per bene con servizi qualitativi a quel punto se non altro la vostra trattativa commerciale dura meno quindi potete evitare di vendere siti a un miliardo e mezzo di euro li vendete a meno semplicemente perché li chiudete prima più riuscite ad automatizzare il processo iniziale meno fatico si fa nella vendita poi se uno è bravo a vendere vende tutto io venderei anche vostra madre quindi detto questo insomma ci vediamo la prossima